Il problema degli anziani del centro Alzheimer, 9 posti abbiamo in provincia di Imperia, sicuramente è una risposta insufficiente, troverete poi i posti di ogni altra provincia della regione. Sicuramente è un aspetto, perché fare la mappa di tutto ciò che abbiamo, i posti a disposizione, non so se questo lavoro era mai stato fatto, oggi c'è, c'è la mappatura, avete visto nel veloci slide, ogni provincia ha la mappa delle residenze per anziani, per acuti, per lungodegenti, insomma è tutto strutturato e vedete anche la disponibilità e anche le esigenze. Io devo fare l'incrocio tra la disponibilità attuale e i bisogni e ovviamente tutto passa attraverso l'accreditamento, quindi un percorso di verifica e controlli che a mio parere dovrebbe essere rafforzato dal punto di vista dei controlli per evitare ciò che è stato detto, che ogni tanto capitano quegli episodi che sono rari rispetto al numero dei luoghi, però sono drammatici, perché quando accadono vanno a colpire gli anziani assistiti in una residenza, quindi è un qualche cosa che tocca ognuno di noi, perché sono cose che non dovrebbero appartenere alla nostra civiltà. Quindi come tali noi dobbiamo fare in modo di non arrivare lì, perché l'intervento dopo repressivo è già un fallimento. Quindi dovremmo sicuramente rafforzare il sistema dei controlli e le verifiche che precedono questo sistema, per cui abbiamo anche affrontato in Consiglio regionale il tema delle videocamere all'interno delle residenze, ovviamente deve essere fatto compatibilmente con le esigenze delle privacy, sia delle persone ricoverate che degli operatori, però anche su questo si può ovviamente lavorare.